Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Un vasto incendio distrugge il padiglione C della fiera di Campanara a Pesaro Falsi incidenti stradali ai danni delle compagnie assicurative, coinvolto anche un avvocato fanese Ciopero all'Azimut Benetti di Fano, a rischio 88 posti di lavoro A Gerardo Colombo il premio Passaggi 2016, domani l'ex magistrato sarà ospite al festival Fine settimana l'insegna della solidarietà con la festa che si tiene ogni anno nel quartiere di Centinarone Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti cari telespettatori di Fano TV A questo nuovo appuntamento con l'informazione, l'informazione sul canale 17 Paura questa mattina alla fiera di Campanara a Pesaro Per un vasto incendio che ha completamente distrutto un padiglione Un padiglione che tra l'altro veniva utilizzato anche dalle ginnaste Che in questi giorni sono impegnate in una manifestazione sportiva Questa mattina ha seguito per noi e ha raccolto tutti i dettagli Simona Zonghetti che vedo collegata dalla redazione Buonasera Marco, come hai detto tu questa mattina abbiamo seguito le operazioni di spegnimento dell'incendio E di bonifica dell'aria Probabilmente è stato un cortocircuito a provocare il rogo Che ha distrutto completamente il padiglione C del quartiere feristico di Campanara La struttura stava ospitando un ristorante ma anche una cinquantina di stand gastronomici In occasione della manifestazione ginnastica in festa Per fortuna non si registrano feriti Invece sono ingenti i danni provocati alle cose Quindi alla struttura, al padiglione stesso, a tutto ciò che conteneva Ma ripercorriamo quello che è accaduto dalle 4.30 di questa mattina Con video e interviste esclusivi Un pezzo di lamiera che crolla Fiamme, fumo e disperazione 4.000 metri quadrati sono andati distrutti nel quartiere feristico di Campanara Pesaro Che ospita fino a domenica 26 giugno la manifestazione ginnastica in festa Un evento che ogni anno coinvolge migliaia di persone Questa mattina ancora increduli c'erano dipendenti, responsabili, organizzatori dell'evento Che hanno atteso per ore di entrare nello stabile Ma per motivi di sicurezza sono stati fatti attendere all'ingresso della struttura E le gare in programma sono state spostate in altri impianti sportivi Chi invece nel padiglione C lavorava nel ristorante al primo piano O aveva gli stendeno gastronomici al piano terra In totale 50 espositori Non ha potuto fare altro che stare a guardare e iniziare la conta dei danni Questo è quello che resta della struttura Un mucchio di cenere tra villegno e lamiere Dalle 4.38 quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa di vigili del fuoco Sono scattate le operazioni di spegnimento durate per quasi tutta la mattinata L'intervento dei pompieri è stato tempestivo ma per il padiglione C non c'è stato nulla da fare E tutto ciò che era all'interno è stato avvolto dalle fiamme in pochi minuti Le cause dell'incendio sono al vaglio del vigili del fuoco Anche se l'ipotesi più plausibile è che sia stato provocato da un cortocircuito I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente dalle 4.30 del mattino Ci sono 15 uomini con 8 mezzi Presenti le squadre di Pesaro, Fano e i colleghi di Urbino in supporto In seguito sono arrivati altri pompieri con un'autoscala Alle 11 infatti erano ancora attivi i piccoli focolai Che hanno consigliato alle autorità di proibire a chiunque l'accesso all'aria In via cautelativa inoltre sono stati chiusi gli altri capannoni del quartiere Ad eccezione di quello A Il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi Ha spiegato che la fondazione ha regolarmente assicurato tutti i padiglioni Anche per l'incendio e compresa la merce esposta in occasione di ogni evento Dopo un primo sopralluogo, ha precisato Alfredo Mietti, presidente della fondazione Patrimonio Fiere C'è stato riferito che nel rogo, per fortuna, non sono state coinvolte persone E che i nostri apparati antincendio hanno funzionato perfettamente Non ci sono feriti, non ci sono contusi, non c'è assolutamente niente Perché l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le aree interessate L'area interessata dall'incendio Alcune delle gare sono state spostate? Sì, alcune gare sono state spostate al vecchio palazzetto e al palazzetto di Cucurano La palestra di Cucurano Siete riusciti più o meno a quantificare il danno complessivo? Il danno complessivo lo dovrà valutare il perito quando verrà a visionare l'area Sono costernato per quanto è successo, ha proseguito Mietti Per il disagio che ha subito la Federazione Ginnastica d'Italia La quale ci lega un rapporto di collaborazione pluriennale Ma sono anche abbattuto, a concluso, per l'impatto negativo dell'incendio sugli espositori Che hanno la nostra solidarietà e che potranno godere della nostra massima collaborazione La Commissione di Pubblico Spettacolo e di Vigilanza sta valutando la situazione Per poter dare nulla osta al proseguimento della manifestazione da domani E anche nel padiglione A della Fiera 10.000 metri quadri in grado di ospitare tutte le restanti gare E appena siamo arrivati sul posto abbiamo raccolto la testimonianza di persone Che avevano appreso la notizia dell'incendio da pochissimi istanti C'è chi ha perso lo stand, chi invece gli oggetti personali Che ancora ha dovuto tener chiuso il negozio situato nelle vicinanze del padiglione C Per ragioni di sicurezza, sentite Sua figlia sta partecipando alla ginnastica in festa? Sì, sì, sì Stamattina alle 8.30 dovevamo essere con l'insegnante davanti all'entrata Che aveva la prova riscaldamento E poi ci aveva subito una gara stamattina e una oggi alle 16 E invece vi è arrivato un messaggio poco prima? Alle 8.05 mi è arrivato un messaggio dove ci hanno comunicato che c'era stato un incendio Niente di più, dato che ero per strada sono venuta su e ho visto il disastro Vi hanno comunicato se sposteranno magari queste gare da qualche altra parte? Per oggi è tutto sospeso, sembra che le faranno al palazzetto nuovo Qui al palazzetto Mi raccontavo che comunque tante ragazze, giustamente ci sono rimaste davvero male Perché si stavano allenando da tantissimi mesi se non anni a questo evento Sì, sì C'è una cosa dietro, c'è una preparazione, c'è tutto C'è addirittura una ragazza che si è sentita poco bene Ho sentito che c'è una ragazza che ha una crisi di nervi Perché gente che ha perso un anno di lavoro è tutto fuoco È andato tutto bruciato Lei ha il negozio proprio di fronte? Sì, al numero 16, sì, io faccio articoli pubblicitari È 33 anni che sono qui, non è mai successo niente del genere Questa mattina però ha dovuto tenere chiuso il negozio? Sì, mi hanno consigliato di stare al di qua della linea per cui il negozio ce l'ho chiuso È riuscito ad entrare per sistemare alcune cose? Solo, solo per mettere il trasferimento di chiamata Sa più o meno per quanto tempo rimarrà circoscritta l'anno? Due, tre ore, quattro ore, vedranno loro Quindi è in attesa? Sì, no, ma per me non è un grosso problema, io non ho clientele che mi viene qui perché sono io che vado dai clienti Per cui non è... sì, solo così Un po' di disagio, nessun problema Mi dispiace per tutta l'organizzazione perché fanno sempre dei bei lavori ma il fuoco non si ferma Avete perso tutto quello che avevate? Eh sì, strumenti vari, amplificazione, tutto Avevate il compito di intrattenere musicalmente l'evento? Sì, noi ci occupavamo della regia audio, della situazione musicale, animazione, queste cose qua Quindi tutto ciò che comporta l'intrattenimento Siete riusciti a quantificare economicamente il danno? Noi siamo arrivati in questo momento, abbiamo saputo della cosa, non sappiamo ancora nulla Che cosa avete perso? CD, casse, strumenti? Pianti, mixer, microfoni, cavi, tutto Non vi aspettavate insomma una situazione del genere? No, no, anche perché poi proprio... Magari c'era negli altri padiglioni dove c'erano solamente, non so, i tappeti E invece qui c'è tutto, i banconi di quelli che friggono, i gelati, i bar, tutto Siete disperati? Io oltre alla stratura tecnica, quello che mi dispiace è che ho perso tutta la mia storia musicale Perché avevo tutto ciò da 40 anni fa, quindi tutto ciò che mi serviva per... In questo momento non ho praticamente più storia musicale Sono sia ricordi affettivi che lavorativi Però adesso è l'importante, in questi casi l'importante è che non si sia fatto mai nessuno Questo è l'importante, però certo le cose purtroppo che erano lì sono andate Da dove venite voi? Da Sulmona, gineastica artistica ovidiana Sulmona appunto Io sono il presidente e siamo partiti stamattina all'alba per essere qui in tempo Quindi però durante il viaggio abbiamo appreso della notizia Quante atlete c'erano, immagino in un pullman? No, noi durante la settimana portiamo su 30 atlete Ok E in vari giorni dove gareggeranno, dovrebbero dovuto gareggiare anche oggi Però purtroppo penso che sia rimandato, le informazioni non sono chiare Ecco tutto qua Quindi stanno attendendo nelle gradinate Noi stiamo qui in attesa di vedere cosa succede E per ora dalla redazione tutto, restituisco la linea in studio Bene, grazie Simona Zonghetti e grazie anche all'operatore Filippo Pucci Che questa mattina sono stati appunto sul posto Adesso continuiamo con la cronaca perché il Guardia di Finanza di Pesaro Ha denunciato più di 200 persone che sono rimaste coinvolte In un giro di falsi incidenti stradali ai danni delle compagnie assicurative La Guardia di Finanza di Pesaro ha sgominato un'organizzazione criminale Che da tempo organizzava truffe ai danni di svariate compagnie assicurative Inscenando falsi incidenti stradali Dopo aver ricostruito 100 sinistri Avvenuti nelle province di Pesaro e Rimini Ed analizzato un periodo di 4 anni Sono risultati ben 79 i falsi incidenti E oltre 600.000 gli euro riscossi illecitamente per gli indennizi Denunciate pertanto alla Procura della Repubblica 212 persone, 26 delle quali individuate come le promotrici dei falsi incidenti Ai vertici dell'organizzazione L'avvocato fanese Sergio Sciavo Un suo collega di Taranto Già radiato dall'ordine per reati simili Ed un faccendiere pesarese Che si sono avvalsi della connivenza di personale medico Di un centro diagnostico di Fano E di un'agenzia di pratiche auto di Vallefoglia Particolarmente spregiudicata e senza scrupoli Questa organizzazione ha tessuto nel tempo Una ramificata rete di persone sparse In diverse regioni d'Italia Principalmente del sud Ma anche di nazionalità dell'est Europa E del nord Africa Per raggirare le assicurazioni Diverse erano le metodiche messe in atto dal gruppo Dalla simulazione per strada Con mezzi già danneggiati Alla denuncia a diverse compagnie Dello stesso incidente Fino alla compilazione falsa Della constatazione amichevole O più feriti coinvolti nello stesso incidente In un caso era stata coinvolta una donna incinta Con l'intento di far assumere alla puepera Prima del falso incidente Un farmaco per l'interruzione della gravidanza E ricondurre così la perdita del feto All'incidente Per ottenere centinaia di migliaia di euro di indennizzo Diversi i reati contestati all'organizzazione Che vanno dall'associazione a delinquere Al danneggiamento fraudolento di beni assicurati Alla sostituzione di persona E falso documentale Il ministero dell'interno Ha comunicato alla prefettura di Pesaro Di aver assegnato per la stagione estiva Cinque unità di rinforzo alla polizia di stato E sette all'arma dei carabinieri Inoltre è stato rafforzato l'organico permanente Della questura di ulteriori cinque unità 88 posti di lavoro a rischio All'Azimut Benetti di Fano Questa mattina sono scesi per protestare Ma noi vogliamo mantenere il nostro posto di lavoro Abbiamo una famiglia Non ci possono buttare via così Un altro pezzo della canteristica fanese Che se ne vuole andare Niente lasciava presa a gira L'annuncio della richiesta di cassa integrazione Per 40 lavoratori E la decisione poi di cedere il ramo d'azienda E il tutto nel giro di poco più di un mese Per questo motivo Stamattina 88 lavoratori Tra operai e impiegati 30 dei quali già in cassa integrazione Hanno incrociato le braccia Dando vita ad un presidio davanti ai cancelli Dell'Azimut Benetti Nella zona industriale di Bellocchi La scelta di operare È stata presa dopo aver saputo Della decisione dell'azienda Di voler chiudere il sito fanese specializzato Nella realizzazione di scafi e gusci in vetro resina I sindacati chiedono di avviare subito Un tavolo istituzionale di confronto Per evitare una tragedia occupazionale Si appellano inoltre al comune e alla regione Affinché si adoperino Per completare il dragaggio dei fanghi E la strada di raccordo con il porto Perché il territorio di Fano e della Val Cesano Hanno detto Non si può permettere di perdere le aziende della nautica Anche per i gravi ritardi infrastrutturali Però pensando alla Benetti Il lavoro ce l'hanno Possono portarlo all'interno E continuare sul sito di Fano Visto che Benetti per anni Ancora oggi Speriamo anche per il futuro Rimanga il polo di eccellenza nel territorio Per quanto riguarda la resina Le informazioni sono state confermate all'incontro di ieri Dove l'azienda ha esplicitato in pratica In maniera più o meno chiara Che le intenzioni di rimanere sul sito di Fano Sono remote Dicendoci che intendono esternalizzare Le lavorazioni cedendole a ditte terze O meglio Non portare ulteriore lavoro Che consentirebbe la piena occupazione Delle maestranze ormai formate da anni Qui ricordiamoci che non sono barche normali Sono barche di lusso Una gamma di lusso Sono yacht Fatti da lavoratori professionali E vogliono disperdere questo patrimonio Alle sue spalle ci sono tanti lavoratori Dunque che rischiano il posto di lavoro Sì Sono tutti usciti Stamattina dopo l'assemblea che abbiamo fatto Delle CL7 Ci hanno inoltrato proposte inaccettabili Siamo per chiedere a loro di ritrattare E di tornare qui Prospettando un futuro per queste 88 famiglie Un futuro per questa attività Per questo territorio E per questa zona industriale Che rischia di essere depauperata E impoverita E si rischia di lasciare tanti lavoratori senza tutela Di questa azienda che deve ritrattare le sue posizioni Deve portarci una prospettiva Per il futuro di queste 88 famiglie Deve cambiare la sua posizione Faremo di tutto per arrivare a questo risultato Pare che l'azienda abbia in programma Di costruire due scafi Uno di 31 metri L'altro di 35 E all'incontro Da come riferiscono le RSU e i sindacati L'Azimut Benetti Ha parlato di circa 10 yacht Invenduti A causa della richiesta Della cassa integrazione ordinaria Del rallentamento Della produzione In minimi termini Così Si è fatto strada Fra i lavoratori Il dubbio Che poi è diventato Quasi certezza Della volontà Di chiudere il cantiere E mandare a casa 88 persone Da quanto tempo Siete a conoscenza Di questa situazione? Guarda la situazione Si è sviluppata In pochissimo tempo In un paio di mesi Ci troviamo adesso Praticamente Con un parco di barche invendute Dopo aver lavorato Per due anni È sprombattuto Quindi in pochissimo Dunque il lavoro C'è stato Fino a pochissimo tempo fa Sì Anzi Non pensavamo Che eravamo arrivati A questa situazione Anche perché noi Costruendomi le barca A Biareggio In questo momento C'è nel parco Macchine Parco barche Pieno Quindi Noi non sappiamo Il motivo Per cui Siamo fermi così Ora attendete Una risposta ovviamente Certo La Benetti È un leader A livello mondiale Non possiamo Non vogliamo credere Che ci abbandoni così E ci mandi per strada Ci ha tutelati Fino ad oggi E confidiamo Siamo sicuri Che continuerà a tutelarci E assicurarci il lavoro Per i prossimi anni Perché la possibilità Ce l'hai La possibilità Ce l'hai Di offrirci il lavoro E noi Di mantenere Il cantiere aperto La possibilità Ce l'hai Solo che Loro Non lo vogliono fare Da quanto tempo Hai lavorato In questa azienda? Sono la maggior parte Più di C'è gente Anche 30 anni Che lavorano qua Ma noi staremo qua Pur di ottenere Ciò che dobbiamo ottenere E non ci arrendiamo Ma per nessun motivo Parte male Parte male L'estate Per lo meno Dal punto di vista Balneare Perché dopo le mareggiate Che si sono Mangiate L'arenile Ci sono di nuovo Divieti di balneazione Ne ha firmato uno Anche oggi Di nuovo Il sindaco di Fano Massimo Seri Un'ordinanza di divieto Temporaneo Di balneazione Che riguarda Quattro punti Del lungomare Fanese Il primo All'Arzilla 30 metri a nord Del torrente E a Lido A 100 metri A sud Del molo Dell'Arzilla Nella spiaggia di Sassonio invece Il divieto riguarda L'area adiacente Allo sfioratore Mentre a Ponte Sasso Il quarto punto Dunque Non si potrà fare il bagno Nel tratto antistante Via Fadi Bruno Anche in questo caso Le analisi Effettuate dall'ARPA Ma hanno rilevato Il superamento Del valore limite Previsto Per il parametro Del Escherichiacoli In attesa Del centenario Delle apparizioni Della Madonna di Fatima La statua Girerà Tutta l'Italia E farà tappa Anche a Fano Dunque Fano sarà la prima città Fano sarà la prima città Delle Marche Ad accogliere La statua Della Madonna di Fatima E quando abbiamo avuto Quest'opportunità Abbiamo pensato subito A padre Colombano Che per tanti anni Quasi 40 Ha animato i gruppi Di preghiera Della Madonna di Fatima E quindi Dalla sua San Paterniano Alle 21 Partirà la processione Fino alla cappella Dell'ospedale Il vescovo Sarà presente Sia alla processione Sia alla messa Delle 6 Alla cappella Dell'ospedale Sarà presente Ad Apecchio Per la fiaccolata E la messa solenne E anche a Cagli Per la processione E la messa solenne Nella concatedrale di Cagli Saremo presenti Anche nelle case di riposo Negli istituti Come Casa Serena Anzi inizieremo proprio da lì Come Casa Penelope La Don Paolo Tonucci La casa di riposo di Cagli Approfitto per ringraziare Le direzioni di questi istituti Che ci hanno accolto Sempre A braccia aperte Saremo presenti Nelle parrocchie Della cattedrale di Cagli Di Apecchio E di Serravalle Di Carda Anche qui abbiamo avuto Grande disponibilità Dei parroci E soprattutto Vorrei ringraziare Don Marco Polverari Cappellano Dell'ospedale Di Santa Croce Perché ci ha dato Veramente una grossa mano La fondazione dei dottori commercialisti Di Pesaro e Urbino Ha organizzato Al Politiama di Fano Un evento formativo Sotto forma di rappresentazione teatrale Vediamo di che cosa si tratta La foto alle mie spalle È dell'ex magistrato milanese Gerardo Colombo Che domani sarà a Fano In piazza 20 settembre Alle ore 19 Dove terrà un Alexio magistralis E riceverà il premio Passaggi 2016 E sempre domani Alle 21.30 Al Colle dei Cappucì Di Fossombrone Si svolgerà Un evento Dedicato all'astronomia Saranno presenti Degli astrofoli direttanti Armati di telescopi Che mostreranno Le meraviglie Del cielo stellato E adesso La pagina degli eventi A Centinarola di Fano Venerdì Parte La festa Della solidarietà Domani prende il Via la non edizione Dell'evento Sì Alla non edizione Da domani 24 Che sarà Fino a domenica Iniziamo venerdì Alle 18.30 Con Tire Molla L'apertura Delle stand gastronomici Che come tutti gli anni Abbiamo una specialità La trippa E i fagioli Che tutti gli anni finisce subito E venerdì Iniziamo L'esibizione Si inizia Alle 20.30 Con il dinner dance E alle 21.30 Con Giorgio For dance Per sabato invece? Per sabato Per sabato iniziamo Alle 19.30 Con 5 minuti Di umore Raccontaranno Barzellette Fanesi E seguirà La serata Danzante Con l'orchestra Luca Fabri Alla domenica Iniziamo Presto Alle 9.30 Con la pedalata Organizzata Dalla Centina Rolese E poi A proseguire Alle 19.30 Ci saranno Gli stand gastronomici E poi A seguire La serata musicale Con i diapason Nel parco Quest'anno C'è una novità Che cos'è Per quale motivo? La novità E con il ricavato Della festa del 2015 Abbiamo Acquistato Regalato Al quartiere Due tavoli E un giochino In un altro parco Un dondolo Quest'anno invece Avete già Dei progetti Con il ricavato Delle 20 Sicuramente Anche quest'anno Regaleremo qualcosa Al parco Di Centinarola E Vi aspettiamo Venerdì Sabato E domenica Prima di salutarvi Vi facciamo vedere Una fotografia Una fotografia Che ci è stata inviata Dal papà Di una ragazza Una ragazza Che stava attraversando Le strisce pedonali Qui siamo in Viale Gramsci Affano E vedete Sulla sinistra Del vostro televisore C'è un furgone Di colore blu Naturalmente Si è fermato Per farla passare Dietro Quel pullman Un pullman giallo Vedete Molto grande Che ha tamponato Non si è accorto Che il furgone Che lo precedeva Aveva Si era fermato Per far passare Questa ragazza La ragazza Ha avuto Tanta Tanta paura Il papà Scrive Distratto Oppure no L'autista Dell'autobus Comunque Un secondo prima E il furgone Il furgone Tamponato Avrebbe Travolto E ucciso Mia figlia La foto È stata fatta Da lontano Fatta da Mia figlia Pietrificata Ancora Dalla paura Purtroppo Queste situazioni Sono un po' All'ordine del giorno Vengono investite persone Auto che sorpassano Altre auto ferme Per far passare i pedoni Pedoni che sbucano Da ogni parte Autisti che guidano Leggendo il giornale O addirittura Che chattano Con il telefonino Non si gioca Con la vita Delle persone Scrive Questo papà E con questo Invito Alla prudenza Noi Ci salutiamo qua Grazie per aver seguito Occhia alla notizia A domani